Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. La nebbia era discesa come un sudario estinguendo ogni rumore, facendo sprofondare le strade di Firenze in una quiete da far accapponare la pelle. In quella notte di metà novembre il mio padrone, un anziano signore della fronte spaziosa e perennemente pensierosa, attendeva l'arrivo di alcune persone e aveva preteso che all'appuntamento fossi presente pure io. Il motivo mi era sconosciuto, ma di certo aveva a che fare con i segreti che costudiva gelosamente, tanto che avevo dovuto promettere che non avrei mai fatto parola con nessuno. Dietro di noi la mole incombente della residenza, simile ad un grosso cubo rinforzato alla base da un contrafforte, accresceva i miei dubbi. Stregoneria, socchiusi le palpebre. La mia mente, per quanto limitata, rifiutava quella spiegazione. No, si trattava di qualcosa di diverso e sentivo che mi sarei dovuto preparare al peggio. Da alcuni mesi ero al suo servizio e di cose strane ne avevo viste parecchie, però quella rischiava di batterle tutte. Se non fossi stato senza un tetto sotto cui stare, l'avrei salutato con gioia. I suoi modi di fare lo rendevano un tipo al di fuori del comune e la cosa preoccupante era che tra quelli che conoscevo come i suoi estimatori figuravano personaggi importanti. Lo ritenevano uno spirito innovatore e assai spesso li avevo uditi rivolgersi a lui con l'appellativo di maestro. Mentre rimuginavo su queste cose, erano trascorse due ore dall'ultimo rintocco del coprifuoco. L'attesa si prolungava e l'umidità che saliva dalle sponde dell'arno penetrava sotto i vestiti arrivando a gelare le ossa. Per un mio maggiore sconforto il maestro, che indossava una sobria veste di velluto verde, sembrava non accorgersene e ogni tanto mi guardava con aria interrogativa. Di sicuro avrei preferito accucciarmi sotto le coperte anziché starmene l'impalato con una lanterna in mano. Un cigolio attutito preannunciò l'arrivo di un barroccio che arrancava sull'acciottolata, seguito dal suono di passi pesanti che si materializzavano. Malgrado il buio pesto, erano riusciti a scovarci. Per un momento pensai che fossero come le civette, poi, quando li vidi, mi apparvero davvero fuoriusciti dall'inferno talmente incutevano terrore. Dall'aspetto li credetti barconieri o qualcosa di peggio. Il maestro altese che giungessero sino a noi, percorrendo per intero la via disabitata, e a quel punto si fece riconoscere. «L'avete trovato?» chiese con una certa apprezzione. Il tizio più robusto che spingeva il carretto vi girò attorno sdodando il telo che lo copriva. «È qui dentro», disse indicando il ruvido fagotto di canapa che giaceva adagiato sul fondo. «Mi garantite che non farà rumore?» chiese il mio padrone, portando con diffidenza la mano alla borsa che teneva legata alla cintura. «Sicuro», disse l'individuo di prima, strizzando l'occhio al compare. «Sarà muto come un pesce». «Vi avvisti qualcuno?» «Non si preoccupi, messere», ribatte l'altro con voce aspra. «Nei nostri affari sappiamo essere più che discreti». «Non so come il maestro potesse conoscere gente del genere. Dire che apparissero poco raccomandabili significava far loro un complimento. Personalmente non mi sarei fidato di quei farabutti ed incontrandoli di giorno avrei fatto di tutto per schivarli. Figuriamoci di notte». Il pillosco dei due figuri si fece più vicino, entrando nel cerchio di luce della lampada che reggevo e mostrò la faccia truce e butterata dal vaiolo. Aveva una bella scorza per essere un sopravvissuto. «Se non le sta bene come lavoriamo?» «Non ha che dirlo. Può sempre cercare qualcun altro che le procuri carne fresca per i suoi giochetti. Non so se mi spiego». Si era spiegato e come, con quel soghigno tracotante e lascivo, tanto che il maestro si spicciò a pagarlo, purché si togliersse dai piedi. Fece gadere dalla sua mano pretesa due luccicanti fiorini d'oro e il bifolco soppesò il metallo con un'espressione soddisfatta. «Dove vuole che glielo scarichiamo?» chiese. Il mio padrone indicò le scale che scendevano al piano interrato. «Trasportatelo di sotto. Troverete un tavolo e degli anelli di ferro. Mettetelo lì. Giacomo, il mio aiutante, vi farà strada». I due compari sollevarono il misterioso sacco e qualcosa sempre a contorcersi all'interno. Di qualunque bestia si trattasse, a giudicare dei loro sforzi doveva essere pesante. «Ehi, ragazzino, cos'hai da guardare? Muovi quelle gambe!» Intimorito mi collocai alla testa di quella breve processione, illuminando il tragitto in modo che vedessero dove appoggiare i piedi. Li sentivo sbuffare alle mie spalle, ma a tratti mi sembrava di cogliere un suono più cupo, come un ringhio soffocato, che faticavo a interpretare. Uno sciame di pensieri presa a ronzarmi in testa e mi mancò il coraggio di controllare. Magari si trattava di una belva feroce. Dal profilo poteva anche essere un grosso lupo. Ormai ne erano rimasti pochi, ma non avevo nessuna voglia di incontrarne uno che mi azzannasse la gola. Una paura strisciante si impadronì di me. Cercai di immaginare la mia faccia in quel momento. Dovevo avere l'espressione di un manzo condotto al macello. Mentre avanzavamo nelle tenebre, percepivo una presenza ostile. Irridente e minacciosa sembrava permeare la colte fradicia di chi ci avvolgeva. Sì, sapevo di essere un bigliacco, ma che ci potevo fare? Quando giungemmo in fondo alle scale, il tremore mi impedì di girare la chiave. Il maestro compresa il volo che era in difficoltà e mi fulminò con un'occhiataccia. Mi strappò l'arnese di mano e aprì il pesante uscio di rovere. I due improvvisati facchini accolsero quel gesto con un grugnito di sollievo e mi sentì sprofondare. Entrammo in quell'antro silenzioso le cui pareti scrostate odoravano di muffa. Una tara perfetta! In pochi passi raggiungemo il centro del seminterrato. Il mio padrone fece posare l'ingombrante involucro dove aveva detto e si sbrigò a congedare quei due vendagli da forca scortandoli alla porta. «Se ne serve altro, sa dove trovarci!» Dissero con una risata. «Certo, certo!» tagliò corto il mio maestro avaro di convenevoli e rimase in attesa ad ascoltare finché non udì i passi che si allontanavano. Rimassi soli, continuai a interrogarmi sul contenuto di quel sacco. Le idee più bizzarre solcamano la mia mente mentre osservavo il maestro infilare il vestiario che di solito usava per i suoi lavori. Un abbondante grembiule, due lunghi guanti di pelle nera e una curiosa bordatura che gli ricopriva la faccia. Raccolse la chioma bianca in una coda dietro la schiena, quindi si diresse verso la madia che poggiava contro la parete di fronte. Aprì il primo cassetto e ne trazzi una serie di ferre bruniti dalle forme strane e minacciose. Conoscevo a cosa servivano per averglieli visti ad operare su alcuni animali nonostante il mio disappunto chino a tagliare, a frugare tra l'interiora immerso nell'olezzo dolciastro del sangue, nel fetore che scaturiva dai tessuti più nascosti. In quelle circostanze volgevo lo sguardo altrove per non vomitare ma questa volta presagivo che non me la sarei cavata altrettanto facilmente. Avete intenzione di compiere i vostri studi proprio adesso? Sebbene non volessi irritarlo, dal tono di voce trasparì tutta la mia ansia. «Sei per caso stanco?» mi rispose mentre preparava le cinghie di cuoio. «Non vi è ora migliore della notte per sondare le meraviglie del creato. La quiete che si respira ha il potere di catalizzare l'attenzione necessaria. Vai a prepararmi lo scrittoio!» esegui i suoi ordini e accesi un paio di candele sulla schivania inclinata apposta al tavolo da lavoro. Poi andai a prendere i suoi punti nella cassa panca dove erano custoditi insieme al necessario per scrivere. Il plico di pergamene era spesso non meno di due dita e i fogli erano completamente coperti di schizzi tracciati con l'inchiostro. Pure sforzandomi non ne avrei mai compreso il significato e forse mi dissi «Era meglio così». All'improvviso avverti un capogiro e credetti di svenire. Per la prima volta da quando ci conoscevamo il maestro mi guardò in modo così benevolo. «Stai bene? Sembri piuttosto pallido». Lo rassicurai «Sì, sto bene, forse la tensione». Poi ripensandoci preferì cambiare discorso. «Che tipo di animale intende studiare? Dalla taglia deve essere una bestia interessante. «Oh, certo, è un animale magnifico. Oltretutto, per quello che ho in mente, servirà vivo. E quei signori sono stati capaci di procurarmelo. Mentre ero in altre faccende, mi indicò un coltello. Per favore, apri il sacco, ma presta attenzione a non ferirlo. Ferirlo? Avrei voluto fuggire. Dovetti costringere le mie mani che di nuovo tremavano ad ubbidire, mentre già immaginavo le conseguenze. Quando recisi la tela, con estremo stupore mi ritrovai di fronte a un giovane, i capelli ricci e il corpo spoglio, fatta eccezione per uno straccio legato intorno ai fianchi. Costui ricambiò il mio sguardo con occhi atterriti. Aveva i pulsi e le caviglie legati saldamente tra loro, in modo da immobilizzarlo, e gli sforzi disperati per liberarsi avevano aggravato le sue condizioni. Un rantolo muto gli uscì dalle labbra. Ma, Messer Leonardo, è una persona! Il maestro si voltò con una smorfia seccata agli angoli della bocca. Acuta osservazione, figliolo, e ora, se non ti dispiace, abbiamo un lavoro da svolgere. Se ci sbrighiamo a scuogliarlo, finché il cuore palpita ancora, forse riuscirò ad afferrare il funzionamento degli organi che muovono il corpo umano e terminerò il mio trattato d'anatomia. Cerca di tenerlo fermo per cortesia mentre lo fisso al tavolo.